...e facciamo i nostri auguri per questi 40 anni, noi siamo prossimi a Ipretta, non con Mello, ma con il Picadella da cui loro sono nate, diciamo che è il coro fondatore storico della nostra associazione. E niente, chiudiamo questa bella serata. ...e la regina di Angelo Mazza a cui dedichiamo... ...vieni... 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 Salve Regina, Mater Misericordiae, 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 O semper, o clemens, o via, o dolci zbigo, Maria. Grazie.